Social Network, ecco la parola chiave oggi per il successo delle imprese nel mondo della comunicazione. Ad affrontare l'argomento ci ha pensato la Lampone Comunicazione in collaborazione con APRA e Creso, che hanno organizzato un interessante corso tenuto da Luca Conti, uno dei maggiori esperti italiani in materia. Per un'azienda oggi è fondamentale essere su internet, sia che parli al pubblico italiano, sia che sia internazionale, sia che il pubblico sia di grandi consumatori o di partner e soltanto business. Perché? Perché internet è un mezzo a basso costo che permette di essere controllato e monitorato nel dettaglio, è utile alla reputazione dell'azienda e nell'ambito dei social network che permette ai consumatori soddisfatti, i propri clienti, di parlare dell'azienda e fare pubblicità a bassissimo costo. Le strategie base sono non improvvisare, avere le competenze giuste, non necessariamente con grandi risorse, anche piccoli budget possono permettere di essere presenti con efficacia su questi spazi. Non bisogna improvvisare anche se bisogna sporcarsi le mani, quindi provare senza avere troppa paura di sbagliare. Per fare bene è importante, io direi, cominciare da Facebook per un'azienda che parla al grande pubblico, perché su Facebook ci sono 22 milioni di italiani e in definitiva avere e pensare a una strategia in cui i social network possono dare un valore aggiunto, soprattutto per la conversazione e il passaparola che possono generare. Un piccolo trucchetto che ci puoi consigliare al volo su come incrementare un pochettino la visibilità delle nostre attività sui social? Su Facebook è fondamentale avere una pagina e non un profilo personale, quindi con questa base l'ideale è offrire un mix di contenuti che sia di carattere informativo utile, legato all'intrattenimento e che magari nel caso di un'azienda abbia anche un ritorno economico, quindi coupon, disconto o le offerte speciali solo per i fan. Con questi tre mix di contenuti in genere i fan crescono e contenti non fanno altro che condividere quello che trovano. L'idea è stata quella di coinvolgere le aziende, i nostri partner, i nostri di Lampone e i nostri di Creso del gruppo APRA per parlare di social media e comunque coinvolgerle in un processo di crescita che proponiamo alle aziende marchigiane più virtuose, però non solo, quindi ci rivolgiamo a grandi aziende, medie aziende, ma anche piccole aziende, proprio per permettergli, grazie a un docente d'eccezione che è Luca Conti, che è uno dei blogger più famosi, non solo a livello nazionale ma anche internazionale ed è del territorio comunque di Senigallia, di crescere da questo punto di vista che in questo momento è molto importante per le aziende.